Sicuramente io sono venuto qui per dare il mio aiuto, il mio contributo a questa squadra e secondo me la classifica non merita questa posizione, una piazza così importante dovrebbe stare più in alto. Spero di poter aiutare questa squadra in qualsiasi ruolo, spero in attacco perché il mio ruolo è a punta centrale o a due anche dietro la seconda, facendo la seconda punta. Quindi dove il mister mi vuole far giocare io mi faccio trovare pronto. Rappresenta un'esplosione spero, per me, perché è una piazza così importante, così tanto visibile, con così tanta visibilità per me è importante, ho 23 anni e spero qui di riuscire a fare bene, tanto bene, aiutare questa squadra magari ad arrivare in più in alto possibile. Il mister Guidi l'anno scorso l'ho visto con la Casertana e diciamo che è stata veramente una grande squadra che giocava sempre a calcio, anche io a Foggia quando ci abbiamo giocato contro è stata veramente tosta e sono veramente contento di essere allenato da un mister così perché sono sicuro che con lui posso crescere veramente tanto. Diciamo che a Siregno non ho trovato tanto spazio, non sono stato messo nel mio ruolo, ho giocato più mezz'ala. In attacco, abbiamo fatto un po' di partite a tre, ho giocato esterno in attacco, il quarto di centrocampo non l'ho mai fatto. Quando arrivano nuovi ragazzi in una squadra si spera sempre di... Spogliatoio hai trovato? No, ho trovato un grande spogliatoio, veramente, non me l'aspettavo e sono veramente contento perché sono tutti bravi ragazzi, mi hanno accolto subito bene, sono contento. Spero che, come mi approdo qui, di poter aiutare, come ho detto prima, come ho ripetuto, di aiutare questa squadra a ritornare nella posizione che si merita.